Ecco, a proposito di fuoco, volutamente è meglio non parlare di incidenti perché sono cose tristi per l'anno e cose belle, però la cosa che di fuoco può far riflettere per quanto riguarda l'abbigliamento specifico di piloti da gara, vorrei raccontarvi un aneddoto. C'era un pilota inglese che si chiamava Bully Pitard e dicono le cronache, si può andare a vedere anche su internet, sembra che fosse il pilota che guidava la macchina che non so cosa dovete fare alla rapina del treno postale Glasgow Londra, la rapina più grossa, erano in 18 partecipanti, 15 sono stati presi, 3 erano in libertà. Sembra che il pilota che riuscì ad andare da Glasgow a Londra, cosa fece di preciso non lo so, fosse appunto questo Bully Pitard. Morale, questo è un bravissimo pilota, corso con vetture turismo, con aerosport e corso in Formula 3. Veniamo a Monza nel 1967 che fu un anno terribile per la Formula 3 e lui correva con una Lola, una Lola Formula 3 inglese, successe che si piazzò nella batteria, però i meccanici quando si fermò riscontrarono che il serbatoio si era un po' allentato, era stato fissato male, quindi lo fissarono in fretta tra una batteria e l'altra, tra la batteria e la finale, ed erano in giro per la macchina un po' di gocce di benzina, un po' di benzina, tipo un velo di benzina sul fondo di questi sigari che erano loro le Formula 3. Quando lui era schierato, fece il giro di ricognizione, no, niente, prima del giro di ricognizione, schierarono la macchina spingendo la mano, lui sale in macchina, come fece l'avviamento, come fece l'avviamento, le scintille dell'avviamento fecero partire un incendio, perché questa benzina che era sul pianale della macchina prese fuoco, no, lui partì, come partì la benzina, corse indietro ed era già incendiata, e si è incendiato il motore, il serbatoio, tutto, lui riuscì a fermarsi, a scendere dalla macchina, la macchina bruciò completamente, lui era ustionato, ma non in modo molto grave, morì perché aveva indosso una tuta di nylon, il nylon con il materiale come si facevano una volta le sottovesti, la biancheria intima da donna, no, questo nylon li colò addosso e praticamente morì dopo qualche giorno per soffocamento, non per le ustioni che aveva avuto, per soffocamento perché la pelle non riuscì più a traspirare, ecco, lì si capisce quanto è importante un qualcosa che non bruci, qualcosa che non bruci, capito, di conseguenza ho voluto raccontare solo questo fatto per capire quanto sono importanti questi indumenti che ti preservano del fuoco, quei tanti secondi che permettono a chi ti fa la sicurezza di miniatri e tirare fuori dalla macchina, capito, ecco, ho voluto soltanto dire questo, parlare di questo personaggio e di come è morto, causa l'incendio, ma dovuto all'abbigliamento inadeguato, già allora la FPT faceva quel tutto come abbiamo visto prima, no, però ne fregava fino a un certo punto, molti correvano ancora col giubbotto di pelle o con la maglietta Lacoste, per dire, non era dato tanta importanza, ma dopo questi fatti, caro mio, le cose hanno preso un'altra piega e i piloti hanno cominciato a considerare quanto era importante questo argomento, tanto basta per dire un'altra, la CEA di Bologna, quelli che salvarono Berghera anche dall'incendio a Imola, sono quelli che hanno capito quanto fosse importante avere dei mezzi adeguati che seguissero, sempre nel mio piccolo, nelle gare, partivi, facevi il giro di ricognizione, la partenza, il primo giro di gara era, che è sempre il più pericoloso il primo giro, perché le macchine sono a contatto, in ultimo c'era sempre una macchina della CEA che seguiva il caso di incidente, si fermavano ed erano pronti a spegnere l'incendio, quindi il fuoco ha sempre fatto molta paura, però sono state fatte tante cose che hanno portato ad avere una sicurezza superiore. No, questo qui ho voluto raccontare questi due piccoli aneddoti. Grazie.